Quest'anno CWA è stata premiata allo SMAO di Milano per un progetto di innovazione. Il progetto nasce qualche anno fa, nel 2011, quando sui nostri impianti, che hanno un'età media di oltre 70 anni, abbiamo deciso di andare a rinnovare i sistemi di regolazione e di controllo. Allora, abbiamo deciso di adottare una strategia un po' controcorrente rispetto a quello che succede nel nostro mondo, in particolare perché abbiamo puntato sul fatto di interiorizzare le competenze per la progettazione di questi sistemi, in modo tale da far progettare i sistemi alle persone che gestiscono questi impianti. Per noi è molto importante questo passaggio, in quanto ci siamo posti come obiettivo quello di ottimizzare la possibilità di intervenire ogni volta che qualcosa non funziona sugli impianti. L'ingegneria di CWA, in accordo con la nostra direzione, negli ultimi anni ha puntato molto sull'innovazione tecnologica, con l'obiettivo di interiorizzare tutta una serie di competenze e unificare i nostri sistemi automatici, stiamo andando in controtendenza rispetto agli altri player. Per quanto riguarda gli ultimi anni abbiamo potuto portare all'attenzione del nostro management i grandi risparmi, i grandi saving che si sono potuti avere nell'ambito dell'innovazione tecnologica e interiorizzare le risorse ha permesso di poter far crescere le competenze interne del nostro personale specializzato e in particolare ha permesso anche di unificare tutti i sistemi automatici che man mano andiamo a sostituire sulle nostre centrali per ottenere grandi vantaggi e dal punto di vista manutentivo e dal punto di vista del ricambistica generale. Era il 2011, l'azienda accompagnava lo strano delle acque, gestiva gli acquisti dei sistemi automatici delle centrali in modo frammentario, avevamo sui nostri impianti una svariata quantità di sistemi automatici, tutti diversi tra loro. L'idea geniale che ci è venuta era quella di porci l'obiettivo di padroneggiare in toto i sistemi automatici, per fare questo abbiamo dovuto affrontare delle sfide decisamente ambiziosi. In primis abbiamo deciso di agire spacchettando il problema macro in tre piccoli problemi, ovvero il controllo della turbina, il controllo del generatore ed infine la gestione automatica di tutto il gruppo di generazione dell'impianto. Questo ha fatto partire un percorso innovativo che ha visto la nascita di tre prodotti. Il primo è il regolatore di frequenza che abbiamo chiamato RDF12, in quanto il 2012 è stato l'anno in cui abbiamo messo in servizio il primo sistema. Il secondo è il regolatore di tensione di T14, entrato in servizio nel 2014 e infine nel 2016 abbiamo sviluppato e messo in servizio la nostra prima automazione. Questi tre sistemi insieme, come dicevo prima, fanno sì che l'intero gruppo inelettrico possa funzionare in modo automatico. E' per noi una grande soddisfazione raccogliere questo premio innovazione perché vuol dire avere il riconoscimento di un lungo percorso che ha ormai durato nove anni e per me è anche un orgoglio personale aver avuto la possibilità di esprimermi in questa azienda e di aver visto anche aumentare e crescere la nostra famiglia di innovation.